Ciao turista, oggi scopriremo Napoli andando un po' più a fondo. Scopriamo quindi assieme la Napoli sotterranea. Se dovessi visitare Napoli non può non mancare la tua visita alla Napoli sotterranea. È una delle visite più suggestive della città. Pensa che i primi resti risalgono a 5.000 anni fa. Qui infatti puoi trovare ipogei di età greca, acquedotti e teatri di epoca romana, rifugie antiaerei risalenti alla seconda guerra mondiale per proteggersi dai bombardamenti e quindi ripercorrere tutta la storia del sottosurro napoletano partendo dall'età preistorica fino all'età moderna. Scopriamo assieme cosa visitare durante il tour di Napoli sotterranea. Caro turista, il percorso inizia con l'ingresso nel cuore del centro storico della città di Napoli, precisamente a piazza San Gaetano. Da qui scenderai circa 40 metri nel sottosuolo. Essendoci stata come turista della mia città mi sento in dovere però di darti due consigli fondamentali. Il primo porta che una giacchetta o un maioncino che con l'umidità potresti sentire freddo. Inoltre se soffri per esempio di claustrofobia non fare il tour dato che ci sono tantissimi spazi stretti da percorrere e non è consigliato per chi soffre per gli spazi stretti. Il tour dura circa due ore e puoi visitare per esempio gli ipogei greci scavati nel tuffo e il famoso teatro greco-romano dal quale potrai accedere attraverso un'intrata molto ma molto particolare. Napoli sotterranea è un insieme di cavità e cunicoli. Non è solo il sottosuolo di Napoli ma è una vera e propria città avvolta nel mistero e dalla storia. Questo magnifico tour finisce a via Chiaia e questo percorso che vedi qui è ciò che farai durante il tour ma ovviamente al di sotto del suolo di Napoli. Farai questo tour oppure lo hai già fatto? Fammelo sapere nei commenti e non dimenticarti di seguirmi, mi trovi su Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Inoltre in descrizione trovi il link anche per il mio sito web. La settimana prossima scopriremo assieme cosa unisce due grandi città, Atene e Londra, quindi ti aspetto!